ciao grandissimi sono qui oggi per farvi un nuovo video dove vorrei parlare di un argomento un pochino spinoso ultimamente diciamo negli ultimi due o tre anni è nata questa sorta di questo alone che si è formato attorno all'orologeria tale per cui se un oggetto non viene acquistato e non si rivaluta nel tempo perde ogni tipo di interesse quindi è passata in secondo piano quella che è la storicità degli orologi quello che è il loro heritage quello che è stato il processo tale per cui sono nati si sono sviluppati e si è creata diciamo attorno a quest'ambiente tutto questo questo fascino no è venuto meno e quindi ultimamente si parla soprattutto di speculazione di rivalutazioni si sentono quelle famose domande del tipo ma se lo prendo adesso lo vendo tra un anno perdo i miei soldi ci guadagno i famosi bagni di sangue ecco io credo che queste siano cose assolutamente lecite siano cose che è giusto pensare però siano anche cose che limitano fortemente quella che è comunque la nostra passione quindi il fatto di mettere sempre davanti a tutto il lato economico che per carità ci sta ed è sacro e santo però questa come tutte le passioni va anche un pochino lasciata andare vanno anche assecondate quelle che sono le proprie voglie ovviamente se ci si può sempre permettere quello che si compra non mi stancherò mai di dirlo comprate i vostri orologi i vostri amati orologi con le forze extra quindi non fate mai il passo più lungo della gamba questo ci tengo a dirlo e lo dirò sempre detto questo voi avrete un oggetto comunque che vi piace che vi appaga e sicuramente vi garantisco negli anni se l'oggetto che andate ad acquistare carico di storia e comunque vi emoziona non ci andrete mai a perdere per quello che il lato economico è per quello che è anche il lato umano di questa fantastica passione quindi come sempre mi ritengo una persona che investe in felicità non tanto in termini monetari detto questo comunque ci sono tanti orologi che hanno tantissimo da raccontare e che passano molto spesso il secondo piano come abbiamo visto domenica appunto il video su bom e messier ma ce ne sono anche tanti altri ci sono anche altre piccole realtà come può essere a me alcune realtà molto care come appunto può essere htd come può essere anche calamaica tal proposito ho una sorpresa decisamente golosa da farvi vedere ma la osserveremo insieme domenica e non vi svelo altro che meritano di essere acquistate che meritano di essere vissute che hanno una storia anche se pur breve molto densa molto ricca e quindi che meritano di ricevere attenzione detto questo il mio invito è sempre lo stesso quindi ragazzi comprate con il cuore guardate ovviamente sempre anche il portafoglio quindi non vi affannate ma prendete quello che realmente vi piace tante volte si puntano sempre i soliti orologi che poi in realtà non appagano più di tanto magari perché sono già stati visti al polso di tantissimi o magari perché alla fine si acquista più che altro quello che gli altri desiderano non quello che desideriamo noi stessi questo secondo me è un grande errore perché io credo che quando si acquista un orologio bisogna soprattutto pagare se stessi bisogna esserne contenti bisogna esserne orgogliosi e fieri perché il proprio lavoro si è trasformato in un oggetto che vuole comunque rappresentarci che vuole essere parte di quella che è la nostra storia e questo sarà sia anche un lato un po romantico ma secondo me anche un lato estremamente bello ed affascinante di questa fantastica passione io tante volte mi sono lanciato in acquisti un po azzardati come può essere uno zrc come può essere un favreleuba come può essere un benerus orologi che devo dire ho osservato per anni con grande scetticismo alla fine mi ci sono affiondato sopra e l'avessi fatto dieci anni prima perché sono assolutamente tra i miei orologi preferiti per quella che è la loro storia per quello che è la loro qualità per quello che ha anche il gusto di avere qualcosa che è comunque poco visto e che quindi gli appassionati mi chiedono di parlargliene di raccontargli un pochino di storie appunto di queste di queste case detto questo vi invito come sempre a discutere di queste passioni a non trasformarla mai in un tifo da stadio a parlarne a confrontarsi io credo che questo sia un ambiente fortemente minato purtroppo anche dal lato economico dove alla fine si guarda più quanto costa un orologio di quello che poi in realtà abbia da dire detto questo capisco anche che non è facile in questo periodo in questo momento storico visto anche con costanti aumenti di destino di tanti segnatempo trovare il coraggio e la volontà di spendere un bel po' di soldini per un orologio visto comunque anche ripeto il momento generale che non è sicuramente tra i più fertili ma detto questo credo che siano oggetti che fanno bene io non riuscirei mai a non appassionarmi a non provare a guardare cercare di scoprire avere quella curiosità sana dell'andare a provare appunto questi oggetti degli andare a toccarli con mano vedere come mi stanno al polso di discuterne con gli amici di discuterne con lo stesso negoziante che poi più che negoziante con gli anni diventa un amico quindi di avere tutto questo sano confronto che secondo me tiene viva questa fantastica passione detto questo ragazzi questa voleva essere solamente una breve riflessione su questo ambiente su questo fantastico mondo che non smette mai veramente di stupirmi io come sempre vi ringrazio se il video vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al canale ci seguiamo anche sulla pagina instagram lo zio poli giovedì ci vedremo in live domenica mi raccomando state connessi perché vi presento un orologio di calamai estremamente particolare in quella che è stata la sua ricerca da parte mia perché un oggetto assolutamente tutto tranne che comune come sempre vi ringrazio ciao grandissimi eccoci ragazzi piccolo fuori onda ovviamente abbiamo sempre pedro con la coda a turbine ecco perché è tanto interessato vai tatone un caro saluto da me da pedro come sempre è stato un piacere ciao grandissimi eccoci ragazzi